Le nostre previsioni economiche descrivono una situazione in cui l'economia europea rallenta e ha evitato la recessione che in un panorama così complicato è comunque un risultato ma ha avuto una crescita molto bassa e continuerà a avere una crescita piuttosto bassa anche quest'anno. Nell'insieme tuttavia siamo fiduciosi che a partire dalla seconda metà del 2024 e poi nel 2025 l'attività economica possa riprendere con maggiore slancio. Questo vale per l'insieme dell'Europa ma anche per l'Italia. L'Italia ha dati che sono in genere nella media europea e quindi può avere fiducia che a partire dalla seconda metà del prossimo anno e poi nel 2025 ci sia una ripresa dell'attività. Per questa ripresa è molto importante l'insieme di riforme e di investimenti del PNR.